Iannucci dell'Oriolo Romano, una vittoria che è arrivata, soffretta, avevate solamente un risultato a disposizione, l'avete portata a casa? Noi sono quattro partite, dove andiamo a lanciare il playoff e abbiamo sempre un risultato solo, vince. Tutte e quattro abbiamo vinte, senza subito gol, abbiamo fatto le pari con questo 12 gol e subito 0. Da mister sono super soddisfatto della squadra, perché abbiamo fatto un cambiamento totale proprio, da quando sono arrivato impiavamo tre quattro cose in modello. Perché ci vanno a giocare, in pressione, capelli bianchi nel San Bassa. Il superatore Petro Cinelli, c'è noi noi. Nel San Bassa, siamo tutti dietro. Qui abbiamo fatto un altro tipo di gioco e questi sono stati i risultati. Campo molto difficile, pesante oggi, contro una squadra, contro il mondo profondo, che ha disputato sicuramente un ottimo torneo. Avete cominciato in sordina e siete cresciuti moltissimo, sia nell'arco della prima frazione di gioco e controllando poi di fatto tutta la gara nell'arco del secondo tempo. Abbiamo cominciato con Modulo, poi vedevamo che stava un po' in difficoltà, perché davanti è stato troppo solo l'uomo. Abbiamo ricambiato con il 4-4-2, come abbiamo fatto tutti i playoff. Poi è venuto il gol al 45esimo e poi la squadra è stata tutta compatta. Perché dalla panchina, chi stava al campo, era un solo obiettivo, dicevo. E noi ce l'abbiamo fatto, ci sono riusciti i complimenti. Grazie, ci affettiamo, saliamo. Grazie.